Ben trovati con il TGLIS di Telebari. La Commissione del Viminale sta facendo il suo lavoro. Vedremo gli esiti e poi ci sarà un comitato dell'ordine pubblico nel quale verranno esposti. Lo ha detto il procuratore di Bari, Roberto Rossi, a margine dell'incontro intitolato Potere mafioso e distorsioni del mercato. Rossi ha risposto così a chi gli chiedeva se la Commissione di Accesso inviata a Bari dal Ministro dell'Interno Piantedosi dopo le indagini sul voto di scambio terrà conto della sua opinione. All'indomani dell'arresto dell'ex consigliera comunale Carmen Maria Lorusso e di altre 129 persone Rossi aveva pubblicamente evidenziato come l'amministrazione comunale di Bari avesse collaborato con la Procura per raggiungere importanti risultati sulla legalità. A Bari, come in tanti altri posti, la zona grigia esiste. È un problema di attenzione da parte di tutti perché l'infiltrazione avviene sempre attraverso vie silenti e per questo occorre agire con energia. Lo ha dichiarato il procuratore di Bari, Roberto Rossi, a margine dell'incontro intitolato Potere mafioso e distorsioni del mercato. A chi gli chiedeva se siano in arrivo altri terremoti giudiziari? Rossi ha risposto Non parlerei di terremoti, si parla solo di un lavoro costante che facciamo sotto qualsiasi tipo di amministrazione, sotto qualsiasi tipo di colore politico. E adesso le altre notizie del TgLis. Ladri in azione, giovedì notte, al liceo Scacchi di Bari, ignoti si sarebbero introdotti nella scuola di Via Melo e avrebbero saccheggiato i distributori automatici e portato via anche i computer. Su quanto accaduto indagano i carabinieri. Gli studenti sono rimasti all'esterno dell'istituto e poi mandati a casa per permettere i rilievi delle forze dell'ordine. E' stata somministrata a Bari la terapia genica ad un bambino palestinese di 10 mesi affetto da SMA di tipo 1. che a causa della guerra nella striscia di Gaza non poteva più ricevere le cure necessarie. E' stato sottoposto, spiega il governatore pugliese Michele Emiliano alla infusione della terapia nell'ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari e resterà nei prossimi 90 giorni in stretto monitoraggio clinico. Sono partiti i lavori del primo lotto per la riqualificazione del lungomare di San Cataldo relativi alla realizzazione del giardino nella zona circostante il faro e dell'area destinata a verde e attrezzature sportive. Nel dettaglio gli interventi riguardano l'impianto di verde pubblico attrezzato di quartiere la realizzazione di aree per attività sportive e ludico-ricreative la realizzazione di punti di servizio e ristoro il superamento delle barriere architettoniche la creazione di una passeggiata a mare panoramica la realizzazione di una nuova piazza del faro e di un teatro all'aperto i lavori dureranno circa 22 mesi caschi, poltrone, specchiere, phon, carrelli, spazzole prodotti per la tintura e la cura dei capelli e persino clienti in attesa di essere servite c'era tutto il necessario per svolgere l'attività di parrucchiere ma la responsabile non aveva alcuna autorizzazione e quanto hanno scoperto i finanzieri durante controlli in un locale di Palo del Colle la responsabile è stata segnalata per esercizio abusivo dell'attività ed è stata multata con 5.000 euro e adesso le notizie dall'area metropolitana e dalla regione era riuscito a far perdere le proprie tracce l'estate dello scorso anno quando rompendo il braccialetto elettronico imposto dal Tribunale di Bari aveva lasciato la sua abitazione di Modugno nel Varese per poi sparire nel nulla a rintracciarlo all'aeroporto di Valencia in Spagna sono stati i poliziotti che lo hanno arrestato si tratta di Daci Vulnet 37enne di nazionalità albanese che ha precedenti per reati contro il patrimonio e la persona l'uomo scappato dall'Italia si era stabilito in Francia agenti della squadra mobile di Lecce hanno arrestato in flagranza di reato un insospettabile 39enne di Massafra incensurato accusato di detenzione di arma clandestina e detenzione illegale di munizionamento anche da guerra la perquisizione domiciliare estesa anche alla casa di Campania ha consentito di scoprire il munizionamento di svariati calibri e una pistola sono in corso ulteriori approfondimenti per verificare se l'arma sia stata impiegata in episodi legati alla criminalità svolta nell'omicidio di Maurizio Cologno il 52enne di Sansevero ucciso il 13 agosto del 2022 sul litorale di Marina di Lesina con sei colpi di arma da fuoco all'esterno di un lido i carabinieri hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere su richiesta della procura nei confronti di un uomo di Sansevero di 44 anni accusato di concorso in omicidio con un soggetto non ancora identificato stando alle indagini il 44enne arrestato avrebbe partecipato al delitto in qualità di autista di una GIP rubata che sarebbe stata utilizzata dai responsabili per recarsi sul luogo del delitto avrebbe omesso di dichiarare al fisco ricavi per circa 200 mila euro il titolare di una struttura ricettiva del nord Brindisino lo hanno accertato i finanzieri della compagnia di Ostuni nell'ambito di alcuni controlli per il contrasto all'evasione fiscale dalle verifiche sono emerse alcune irregolarità da parte dell'azienda che avrebbe operato prima come B&B di tipo familiare poi come agriturismo attività svolte secondo l'accusa omettendo più volte di denunciare al fisco i ricavi e con il TgList è tutto grazie per averci seguito buon proseguimento grazie per aver guardato il nostro canale